Sabato 18 giugno alle ore 17.30 presso la sede di Vogherem via Cavallotti-Selice verrà presentata una raccolta di poesie e siamo qui proprio con l'autore di quest'opera Gianfranco Isetta, benvenuto. Ecco, come nasce questa raccolta e quali sono le caratteristiche principali? Questa è la quarta o quinta raccolta che ho pubblicato, l'ultima in ordine di tempo e dal titolo si capisce un po' particolare perché il titolo è Passaggi curvi, poesie non euclidee e richiama un po' il fatto che, parlando anche della geometria, la geometria euclidea è quella che metti messa in discussione appunto dalla geometria attuale che è quella non euclidea appunto e in qualche modo, siccome io mi ispiro molto anche all'altra mia passione che è appunto la fisica delle particelle, l'astrofisica eccetera, queste poesie si intersecano un pochino anche con questi elementi, per quanto il libro è diviso in cinque parti, la prima si intitola Universo e Geometrie che appunto richiama l'argomento, poi abbiamo del tempo, il caso, il senso e poi chiude e dell'amore, nel senso che si chiude un cerchio che parte dal fatto che noi siamo corporeità ma poi siamo anche qualcos'altro, insomma consapevolezza di noi, ci distinguiamo dai sassi e dagli animali perché abbiamo coscienza di noi stessi, difficile da capire che cos'è ma insomma c'è. In 18 giugno lei dialogherà con Candido Meardi davanti al pubblico che verrà ad assistere ma cosa prova un poeta quando si va a snocciolare quello che è il contenuto della propria opera del proprio libro, soprattutto davanti ad un pubblico che non è qui per leggere ma per ascoltare? Beh intanto vabbè a me è già capitato altre volte quindi diciamo che non ho il problema di rompere il ghiaccio, sono molto contento che ci sia Candido con me perché è un amico oltre che un ottimo poeta, poi lui è anche un affabulatore, molto bravo anche nel presentare dopodiché niente, io sono anche abituato a fare letture pubbliche, faccio anche incontri con i ragazzi delle scuole perché uso molto lo strumento della rete perché sono convinto che il modo più efficace di proporre la poesia è proprio questo, intanto io scrivo testi molto brevi, a volte anche un po' complicati, la poesia come del resto ha anche altre manifestazioni artistiche, spesso arriva dall'incoscio, non è che si programma tutto, dopodiché un'idea arriva, dopodiché ci si lavora sopra un po' artigianalmente, non so più chi l'ha detto ma la poesia è il 5% ispirazione, il 95% traspirazione nel senso che si suda proprio per sistemare, poi ho anche un po' la mania di usare un pochino la metrica anche se in modo abbastanza libero, mi piacciono molto i settenari e gli indecastitami normalmente. La citata prima e quindi per concludere le faccio proprio questa domanda, in un periodo storico in cui la comunicazione passa principalmente attraverso la rete, attraverso i social network, in cui le parole perdono di significato o ne acquisiscono di un altro, di nuovo, che futuro si immagina e si augura soprattutto per la poesia? Oggi io do questo giudizio di quel che accade in giro, ma non solo in Italia, vedo molta mediocrità, molta violenza anche e volgarità. La mia poesia che apparentemente è lirica, se vogliamo, leggera, in realtà è un'invettiva, nel momento in cui si propone con leggerezza, vuole essere una sorta di contraltare a questo meccanismo di volgarità e di mediocrità che c'è in giro e quindi io penso che sia un messaggio anche quello. Naturalmente la poesia, differentemente da altre forme di manifestazione letteraria, non deve dire tutto, deve proporre immagini, emozioni e far riflettere alla gente. Io uso questo strumento in qualche modo per proporre alla gente una visione diversa del mondo. Io sono convinto che la leggerezza e la bellezza ci salverà. La poesia è questo. E quando parlo di bellezza non mi riferisco necessariamente a cose esteticamente belle, perché ad esempio c'è la vecchia signora del quadro di Caravaggio, Giuditte Oloferme, la vecchia è bruttissima, però è uno dei quadri più belli in assoluto, che è qua dentro, perché io ho fatto anche un e-book dove ho in qualche modo commentato dei quadri, a modo mio naturalmente. Gianfranco Isetta ha parlato della poesia come opera aperta, come un testo che non dice tutto ma lascia spazio alle emozioni del lettore o dell'ascoltatore e quindi in qualche modo opera aperta ci richiama al nostro evento successivo che ha appunto come protagonista Umberto Eco. Quindi il titolo Eco d'estate vuole riferirsi proprio a questo. Stiamo parlando della prima sera, sera d'estate, la sera del solstizio, il 21. L'iniziativa è in realtà un incrocio di due proposte, due idee diverse, di due differenti soci molto importanti secondo me di Vogherae. La prima idea, quella cioè di ricordare, ricordare, perché commemorare non mi sembra giusto, ma ricordare Umberto Eco come promotore ancora di importantissimi stimoli culturali al di là di questa vita direi, è stata di Piero Milanesi, quindi del nostro grande musicista vogherese Piero Milanesi. Ha detto organizziamo qualcosa, quando è mancato Eco, ha detto dedichiamogli un evento. Per contro Alessandra Genola, che è stata protagonista e promotrice per moltissimi anni degli eventi culturali del comune di Voghera, mi aveva raccontato un'esperienza vissuta ad Asti con Luciano Nattino e la compagnia teatrale del Mago Povero con cui ha collaborato molto. La sera del solstizio quindi attendevano l'estate leggendo un'opera intera, con l'intervento di chiunque volesse prestarsi a leggerne una parte. A questi eventi sono intervenuti anche personaggi d'eccezione come Paolo Conte, Giorgio Faletti, ecco quindi un'esperienza intensa e forte. Alessandra ha proposto di fare qualcosa del genere a Vogherae. Ecco, mettendo insieme le due idee abbiamo deciso che aspetteremo il solstizio d'estate leggendo per intero il diario minimo. Ad Asti sono stati letti anche testi molto più impegnativi come addirittura Moby Dico e Promessi Sposi. Noi partiamo soft, non come contenuti diciamo ma come forma. Il diario minimo è fatto di frammenti quindi chiunque venga a trovarci quella sera potrà ascoltare come un contesto di senso compiuto. Non solo ascoltare ma anche leggere. Quindi noi invitiamo tutte le persone che amano, provano interesse nei confronti di Umberto Eco a intervenire quella sera a qualunque ora, possono arrivare dalle nove in poi, possono arrivare, ascoltare, magari bevendo un buon bicchiere e se lo desiderano leggere il loro brano preferito. Quindi è una specie di, l'abbiamo definito, una specie di gem session letteraria in cui chiunque può intervenire e dire la sua senza essere obbligato naturalmente. Ok, grazie. Anticipiamo già l'evento del sabato successivo, cioè del 25. Non ha ancora un titolo però sono due esperienze diverse, sono esperienze diverse artistiche che nascono da una comune, da un comune vissuto problematico, difficile, qual è quello del carcere. Quindi noi avremo la presentazione di un libro in cui racconta la sua esperienza di carcere e a seguire ci sarà la presentazione di quadri di carcerati o ex carcerati. Ripeto, non si tratta di carcerati che sono dedicati però alla pittura ma di artisti che hanno vissuto l'esperienza del carcere, una cosa un po' diversa. Ecco, la promotrice dell'iniziativa è Paola Fossati, presidentessa della consulta del volontariato di Voghera e vuole proprio promuovere il carattere artistico di questa produzione che non è stata frenata ma anzi forse potenziata da un'esperienza così dolorosa. D'altra parte anche la presentazione del libro di Mimmo Danza è stata sostenuta dalla libreria Ticinum e da Elisabetta Barduzzi. Quindi anche qui abbiamo un intreccio di sinergie tra persone che si occupano di cultura, di sociale, di arte.